E' inesauribile perché in un certo senso le amicizie in senso individuale si esauriscono. Una persona può avere molte amicizie, invece noi possiamo farle diventare inesauribili nella misura in cui decliniamo l'amicizia a livello sociale. E' amicizia quindi il fatto che noi ci preoccupiamo della salute degli altri, dell'istruzione degli altri, della salute dei paesi diversi dal nostro, della cooperazione con altri paesi. Questa è una declinazione dell'amicizia che si irradia su un ambito di persone di cui non conosciamo il volto. Ed è questa la parte più bella di questa amicizia. Se si parla di giustizia bisogna cercare di evitare di partire dagli eventi ultimi e partire dai dati di fondo. I dati di fondo sono 4 milioni e 400 mila cause pendenti. Primo. Secondo, un numero di magistrati insufficiente, un numero di magistrati troppo impegnati a svolgere attività amministrative e legislative mentre dovrebbero fare i giudici. Una giustizia lenta, una giustizia che arriva in ritardo. E quindi dobbiamo preoccuparci della giustizia per, non per la giustizia contro, ma della giustizia per. Per vuol dire per i cittadini.